I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla DDA, hanno sgominato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra Gioia Tauro e Rosarno. 13 sono state le persone coinvolte, di cui 8 sono finite in carcere e 5 ai domiciliari. L'organizzazione era in grado di rifornire di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina le più importanti piazze di spaccio calabresi. Il quadro indiziario ha evidenziato la sussistenza di collaudate dinamiche operative interne, oltre che per la suddivisione dei compiti, anche per il conferimento e la ripartizione dei guadagni illeciti, come pure di una rete di protezione volta ad informare in caso di arresti o sequestri tutti gli associati del pericolo di attenzioni investigative delle forze di polizia. Lo stupefacente doveva essere collocato al dettaglio sul mercato in modo professionale, continuo e capillare. Emerso anche in maniera lampante come gli indagati si attenessero meticolosamente alle modalità con le quali dovevano intrattenere i rapporti tra loro e quelle relative all'occultamento dello stupefacente e all'immediato approvvigionamento alla fonte per evitare che la clientela potesse rivolgersi insoddisfatta ad altra rete di spaccio.